Dal 1978, macchine per la pasta made in Italy. La Monferrina dal 1978 produce macchine per la pasta fresca ripiena e secca con produzione da 6 a 600 kg per ora, adatte a ristoranti, laboratori di pasta fresca e industrie che esporta in 80 paesi nel mondo. Negli ultimi anni la ditta ha sviluppato macchine particolarmente adatte a negozi di pasta fresca, laboratori e punti vendita all'interno di supermercati. La gamma di macchinari prodotti include macchine per tagliatelle, ravioli, cannelloni, lasagne, tortellini e gnocchi, macchine per crepe quadrate rotonde, linee per pasta fresca pastorizzata e confezionata in atmosfera modificata, linee complete per pasta secca, dal caricamento della farina al confezionamento finale, essiccatoi statici e tunnel di essiccazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!